Amici d'Italica, adesso che abbiamo capito quali sono le origini del tricolore italiano, probabilmente vi chiederete perché le squadre sportive nazionali indossano uniformi di colore azzurro. Ve lo spiego subito. Come abbiamo visto nel video precedente, la penisola italiana è stata una cozzaglia di stati e di piccoli stati e repubbliche sotto il gioco straniero fino a quando, il 17 marzo 1861, è nato il Regno d'Italia, guidato da Casa Savoia, una delle più antiche dinastie d'Europa. L'esordio del colore azzurro in ambito sportivo avviene nel 1911, in occasione di una partita di calcio disputata tra Italia e Ungheria, e segna la sostituzione del colore bianco fino a quel momento utilizzato per le maglie. Lo scopo era appunto rendere omaggio a Casa Savoia. Anche se lo stemma sabaudo era bianco e rosso, era invece di colore azzurro la fascia che lo accompagnava e che simboleggiava la devozione della casata a Maria Vergine, il cui manto nella tradizione iconografica occidentale di solito è rappresentato di questo colore. Ecco ragazzi, ora conoscete anche questa curiosità. Quanto è bella la storia italiana, vero? Ti piace lo sport? Oppure hai amici che tifano per la nazionale italiana di calcio, per gli azzurri? Marchi i suoi amici, marchi a chi possa s'interessare per queste importanti curiosità culturali d'Italia e nos vemos nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.